Buongiorno a tutti, nel vio di oggi voglio affrontare la figura cardine, potremmo dire, delle vicende del 25 luglio, ossia Pietro Padoglio. Voi direte, non ha un ruolo fondamentale fino al 25 luglio? Sì e no, nel senso che sicuramente fino al 25 luglio ci sono dei personaggi che in qualche modo hanno un peso determinante maggiore di lui, visto che lui in qualche modo è un po' il beneficiario indiretto, il beneficiario inconsapevole, ma sì, in realtà è consapevole, però è un beneficiario che non è merito suo il fatto che venga chiamato a capo del governo nel tardo pomeriggio del 25 luglio 1943. Purtuttavia, avendolo citato come una sorta di convitato di pietra, negli ultimi video in cui abbiamo in qualche modo tratteggiato attraverso fonti diverse, attraverso documentazione la più varia possibile, che in qualche modo però ci offre ciascuna per proprio conto un tassello fondamentale nella comprensione degli eventi che portarono alla defenestrazione di Mussolini, mi è sembrato interessante quindi approcciarci in modo approfondito sulla figura di Badoglio e onestamente non ho trovato di meglio che andare a recuperare una sorta di pietra miliare della storia militare italiana, ossia la monumentale biografia dello stesso Badoglio, scritta a quattro mani da Piero Pieri e da Giorgio Rocha nel lontano 1974. Questo è un volume veramente poderoso e fondamentale per chi si occupa di storia militare italiana, ma di storia italiana in generale. Un volume che io ho comprato in tempi abbastanza recenti usato, quindi quando l'ho trovato ne sono stato particolarmente orgoglioso e felice perché è un volume che non può mancare nella biblioteca affollata come la mia. Ebbene, questa biografia che dicevo è scritta a quattro mani, grosso modo la prima parte è scritta da Piero e la seconda da Rocha con ovviamente delle contaminazioni e degli elementi interessanti di combinazione delle due parti. Ci offre, secondo me, un'analisi trasversale che in qualche modo permette di capire meglio la posizione di Badoglio che sostanzialmente, se per 15 anni, dal 25 al 40, è uno strumento fedele, uno strumento malleabile nelle mani di Mussolini, nella gestione delle faccende militari, bene, dopo la sua cacciata alla fine del 40, Badoglio riesce a disegnare intorno a sé un alune di perseguitato politico del fascismo. Sostanzialmente egli cerca sempre di tornare agli onori della cronaca cercando di trovare uno spiraglio nel Quirinale, ma in realtà poi, come sappiamo, egli fino al 25 di luglio e al 43 giocherà un ruolo assai modesto, anche un po' emarginato. Non mi ricordo dove ho letto che al funerale della moglie, avvenuto appunto tra il 41 e il 42, non partecipò praticamente quasi nessuno tranne Roatta, Roatta che si presentò anche, mi pare, in borghese, quindi senza una grossa pubblicità. Quindi per capire anche le dinamiche di un uomo che era caduto proprio in sfortuna e che nessuno poi aveva più l'interesse a visitare, a corteggiare, eccetera. Quindi la lettura che io vi leggerò oggi è il paragrafo, si chiama Due anni e mezzo di attesa ed è del capitolo intitolato Capo del Governo dal 25 luglio all'8 settembre 43. In realtà questo primo paragrafo è introduttivo e quindi è una sorta di bretella tra la sua cacciata come capo del Stato Maggiore Generale alla fine del 40 e quindi appunto la sua disegnazione a capo del Governo appunto dopo l'arresto di Mussolini. L'esonio di Badoglio segnò la fine della sua vita pubblica. È interessante qui una nota che vi leggo perché dice secondo il generale Puntoni nella seconda metà di marzo 41 Badoglio avrebbe fatto sapere al re di essere disposto a riprendere il comando per raddrizzare la situazione in Albania. Chissà che avrebbe fatto. Ovviamente prendere il comando significava cacciare Cavallero. La notizia non ci sembra del tutto attendibile. Era difficile che Badoglio non si rendesse conto che date le circostanze per suo richiamo avrebbe significato una netta sconfitta di Mussolini che la situazione complessiva non rendeva ancora possibile. La prendiamo come nota. Come nota è come nota la leggiamo. Però è interessante. Troncati i rapporti con gli alti comandi e con il Governo il marisciallo non rivide più Mussolini. Sospesa la partecipazione alle cerimonie del regime finiti gli incensamenti della stampa gli fu tolta pure la presidenza del CNR. l'aveva avuta immediatamente e quindi non è che facessero un soldo di danno a toglierla che aveva mantenuto ed esercitato anche durante i mesi di guerra. La rivista del CNR La ricerca scientifica registra ancora la partecipazione di Badoglio alla vita dell'ente nel dicembre del 40. Poi il suo nome scompare anche se dai verbali conservati risulta che il maresciallo continuò a presiedere le riunioni più importanti almeno sino al febbraio del 1941. Ci fu poi un periodo di vacanza alla testa del CNR ed infine il 24 ottobre del 41 il professor Vallauri assunse la presidenza dell'ente guardandosi bene dal fare il nome e l'elogio del suo precedessore come avrebbe richiesto l'etichetta. Anche nei giorni di maggior successo Badoglio aveva condotto una vita semplice e irregolare e qui parla un po' delle vicende di Badoglio diciamo le omettiamo la fine della carriera militare e degli impegni pubblici non alterò le sue abitudini pur lasciandogli più tempo per il bridge, le bocce e la caccia attività che svolgeva anche come sappiamo nei momenti più cruciali oltre a dormire che diciamo che in momenti anche cruciali dormiva Caporetto il 7 settembre è sempre a letto perché lui andava a letto tra le 21 e le 21 e le 30 quindi cascasse il mondo attaccassero gli austro-ungarici arrivasse un'ambasceria americana per trattare dell'armistizio lui alle 21 e 30 va a dormire. Il carteggio della segreteria di Mussolini attesta che il comportamento del maresciallo fu seguito con molta attenzione all'indomani del suo esonero. A due riprese il 24 gennaio e il 24 marzo 1941 il dittatore fece chiedere informazioni in merito al sottosegretario agli interni Bufarini noto spione ma entrambe le volte le risposte furono rassicuranti virgolette Badoglio e i suoi familiari non fanno cosa alcuna che possa dar luogo a sospetti comunque il ministero vigila su tutta la situazione con tutti gli organi tecnici 24 marzo Nei mesi e negli anni seguenti il maresciallo continua a essere sottoposto alla sorveglianza poliziesca ma non è detto che ciò avesse un significato particolare perché tutte le maggiori personalità del regime erano sistematicamente controllate dalla polizia e infatti la libertà di movimenti di Badoglio non fu turbata i suoi amici non vennero infastiditi né furono impediti cauti contatti politici che come vedremo egli prese anche con l'opposizione antifascista e le autorità nemiche in sostanza benché collocato a riposo e privato di qualsiasi incarico e pubblicità Badoglio continuò a fruire degli onori del suo rango di maresciallo la principale precauzione che il regime prese nei suoi confronti fu di impedire che il suo nome fosse ricordato all'opinione pubblica il 30 aprile 1941 uno dei figli di Badoglio Paolo morì in un incidente automobilistico in Libia la notizia fu riportata riportata all'agenzia Stefani ma una velina del ministero della cultura popolare velina che non è non le ragazze di striscia notizia ma una informativa una comunicazione ben ponderata di indicazione politica ai quotidiani prescriste che fosse pubblicata nelle pagine interne senza alcun rilievo quando nel novembre del 1942 la moglie di Badoglio Sofia morì a Roma dopo una lunga malattia il regime volle ancora passare sotto silenzio il fatto per quanto era possibile Mussolini mandò un laconico telegramma di condoglianze i giornali dietro al fatto un rilievo minimo ai funerali non furono rappresentanti rappresentati nel governo del partito alla cerimonia erano invece presenti generali e personalità l'ambasciatore tedesco e il rappresentante del re io mi ricordavo su loro atta però diciamo che la partecipazione comunque non fu così evidente così appariscente l'assenza di esponenti fascisti fu notata e commentata tanto che Mussolini dovette provvedere facendo pubblicare sui giornali un elogio funebre più aderente al rango della defunta un'altra indicazione del clima dell'epoca è la reazione del lettore Arnoldo Mondatori quando nel settembre 1942 seppe che Badoglio aveva preso contatto con uno dei dirigenti della sua casa editrice per la pubblicazione di un libro sul fiume verosibilmente quello poi apparso nel 1946 nel 1936 il libro di Badoglio sulla guerra d'Etiopia era stato un colossale affare per Mondatori ne abbiamo parlato c'è un video apposito vi invito a vederlo ma nel mio 142 Badoglio non era più grato al regime e pertanto l'editore si affrettò a scrivergli una lettera molto secca virgolette è ovvio che nessuna opera su tale argomento potrà essere da noi pubblicata senza averla prima sottoposta alle superiori autorità ed aver ricevuto dal duce la necessaria autorizzazione pensate un po' ed ad inviare copia del carteggio a Mussolini protestando la sua lealtà ed accusando Badoglio di aver sorpreso la buona fede del suo dirigente con inopportune proposte pensate un po' anche Bondatori che lo aveva incensato che si erano entrambi arricchiti per le opere di Badoglio letterarie li ha sostanzialmente chiuso la porta in faccia la sorveglianza poliziesca abbiamo detto non impedì a Badoglio di avviare numerosi contatti con diversi ambienti ostili al fascismo e alla dittatura mussoliniana ricostruire con sufficiente esattezza il momento e il carattere di questi contatti non è possibile perché le notizie sono scarse imprecise e contraddittorie lo stesso Badoglio nel volume autobiografico l'Italia nella seconda guerra mondiale fornì in merito una narrazione elusiva ed approssimata che mira soltanto a mettere in buona luce l'azione del maresciallo a costo di tacere o mentire su troppi particolari un difetto genere del libro che lo rende praticamente inutilizzabile per lo storico i documenti disponibili e gli studi condotti prima tra tutti la ricerca di gruppo effettuata all'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione nel 1967-69 permettono tuttavia di porre alcuni punti fermi nella ricostruzione del periodo in cui inquadrare poi la parte avuta da Badoglio sia pure senza la pretesa di esaurire la questione e togliere ogni dubbio l'elemento più importante da considerare perché costituisce il presupposto di tutti gli avvenimenti dell'estate 1943 è l'aggravamento della situazione interna italiana a partire dall'inverno 1942-43 e entriamo un po' nell'argomento che ci interessa vi concorsero vari fattori l'andamento del conflitto che nell'autunno 1942 divenne decisamente sfavorevole all'asse specie nel Mediterraneo sconfitta di era la Maine sbarco anglo-americano nell'Africa settentrana e francese occupazione della Libia e poi della Tunisia la tensione profonda nelle campagne nei cedi medi nella piccola industria cioè in tutti i settori dell'economia che sistematicamente sacrificati alla produzione bellica erano ormai in piena crisi e non potevano più reggere al peggioramento delle condizioni di vita i grandi scioperi del marzo 1943 nelle maggiori fabbriche del paese che segnalano il ritorno del proletariato sulla scena politica come protagonista dopo 20 anni di compressione e infine l'evidente incapacità del regime fascista di reagire al precipitare della situazione se non con misure penosamente insufficienti come il cambio della guardia intorno alla dittatura nel gennaio del 1943 quindi abbiamo il grosso rimpasto l'ultimo grande rimpasto del governo Mussolini e la cacciata di Ciano per dire cade anche il cosiddetto gabinetto Ciano e la sostituzione quasi contemporanea di Cavallero con Ambrosio in queste condizioni la classe dirigente italiana cominciò seriamente a porsi il problema di sostituire la dirigenza mussoliniana e l'apparato fascista che non apparivano più in grado di garantire la continuazione di un dominio di classe e poiché la sorveglianza della polizia impediva un libero confronto delle posizioni la ricerca di una alternativa politica fu affidata a una serie di complotti più o meno seri e più o meno segreti che non è possibile e in fondo neppure utile ricostruire nei dettagli nell'intrecciarsi di caude trattative e prudenti sondaggi si delinearono tre gruppi principali di aspiranti alla successione di Mussolini e qui arriviamo all'elemento interessante i fascisti opportunisti i militari gli antifascisti moderati quindi sostanzialmente andiamo a capire come il 25 luglio sia la fusione scollegata di questi tre filoni che troverebbero dico troverebbero la sintesi nella più o meno volontà del sovrano che però ovviamente agiva da battitore libero e soltanto quando reputava egli prudente opportuno necessario agire i primi che facevano capa grandi ma si dividevano poi in infinite piccole cricche personali avevano come programma di sacrificare Mussolini per salvare la sostanza del regime come vantaggio il disporre di una serie di leve di potere e di complicità all'interno dell'apparato statale e come svantaggio fondamentale l'impossibilità di distanziarsi realmente da una politica ventennale cui avevano partecipato in prima fila gli antifascisti moderati per lo più liberali riformisti e cattolici che rientravano nella vita politica dopo quasi vent'anni di emarginazione avevano come unica arma la loro lunga opposizione al fascismo si trattava infatti di elementi moderati e realisti privi di contatti con le masse e sicuramente avversi a ogni avventura rivoluzionaria che avrebbero potuto assicurare la continuità sostanziale dell'assetto sociale e politico anche dopo il crollo della facciata fascista il loro esponente più autorevole era Bonomi io aggiungerei una cosa questa 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 parte diciamo il gruppo degli antifascisti poteva eventualmente avere a differenza dei fascisti chiamavano opportunisti e dei militari poi forse una carta in più nel possibile dialogo con gli angloamericani avrebbero potuto però come sappiamo una cosa è dire avrebbero potuto una cosa poi è dargli l'occasione che non ebbero quindi il gruppo più importante era però quello dei militari che disponendo delle unità dell'esercito della sua complessa e capillare organizzazione erano gli unici ad avere la forza per superare eventuali resistenze fasciste e per mantenere il controllo dell'ordine pubblico anche nella crisi politica che la fine di un regime ventennale avrebbe certamente aperto non si dimentichi che tutti i gruppi che nel 1943 si adoperavano per eliminare Mussolini erano uniti dalla ferma convinzione che la crisi dovesse essere il più possibile indolore che dovesse cioè essere risolta con un'azione di vertice tale da prevenire lo scatenamento della lotta politica vera e propria e specialmente la reazione delle masse l'esercito aveva mantenuto intatta la sua organizzazione tradizionale che gli permetteva di effettuare con rapidità ed efficienza un intervento repressivo a tutela dell'ordine pubblico lo vedremo negli ultimi giorni di luglio era quindi lo strumento essenziale di un colpo di stato conservatore leggeremo Rochard lo riutilizza questo concetto di colpo di stato io non mi piace e in genere non lo uso quindi ve lo leggo ma avrei dei dubbi qui lo stesso Rochard giustifica l'utilizzo di questa espressione io non condivido neanche questo utilizzo funzionale quando utilizzo il concetto di colpo di stato lo metto sempre tra virgolette e lo metto pongo come dubbio come cosiddetto ma non lo trovo assolutamente idoneo a definire quello che accade tra il 24 cioè meglio il 25 luglio e infatti alla preparazione del rovesciamento di Mussolini parteciparono solo gli esponenti dell'esercito e il capo di stato maggiore generale Ambrosio mentre la marina e l'aeronautica furono sistematicamente lasciate a parte poiché poco potevano contare nelle loro lotte interne al centro di tutti questi complotti erano il re e il suo dinamico ministro della real casa a Cuarune Vittorio Emanuele aveva sempre accettato una parte di secondo piano solo la convinzione che l'avvenire della monarchia sarebbe stato messo in pericolo da un ulteriore aggravamento della situazione lo indusso nel 1943 a prendere posizioni contro Mussolini sia pure con estrema riluttanza e molta preoccupazione per il futuro abbiamo letto ieri nelle memorie nel diario di Bonomi quanta quanta volontà di non decidere avesse Vittorio Emanuele in senso lasciava correre gli eventi e gli eventualmente avrebbe colto quello che sarebbe capitato la sua partecipazione attiva era però necessaria perché il colpo di stato fosse il più possibile in dolore solo il re poteva costringere Mussolini alle dimissioni assicurare l'obbedienza di tutto l'esercito e offrire un punto di riferimento chiaro e legato alla tradizione della crisi politica che se sarebbe aperta Vittorio Emanuele accettò quindi di prendere cauti contatti resi più vaghi dalla sua mania di segretezza riservandosi la scelta del momento e della soluzione da imporre a queste manovre non poteva restare estraneo Badoglio sappiamo infatti che se nell'estate 1942 egli aveva accolto con molta prudenza i sondaggi della principessa Maria José nel novembre 1942 egli si rivolgeva al cardinale Maglione segretario di stato del Vaticano chiedendo di conoscere le sue intenzioni e ponendo esplicitamente la propria candidatura alla successione di Mussolini come capo del governo il cardinale Maglione rifiutò di compromettersi ma Badoglio non se ne dette per inteso e il 21 dicembre scrisse al segreto di stato una lettera recentemente pubblicata in cui si metteva a disposizione per la liquidazione del governo fascista e la creazione di un governo Badoglio quindi già nel dicembre del 42 ed entra un po' in quelle dinamiche della malattia di Mussolini dell'eventuale colpo di stato Cavallero Farinacci tutte quelle trame che si sono sviluppate più o meno in maniera credibile alla fine del 42 anche questa offerta cadde nel vuoto contemporaneamente Badoglio si spingeva fino a tentare di stabilire un contatto con gli inglesi mentre ancora durava la guerra un gesto veramente inaspettato in un uomo così legato alla tradizione patriottica e militare ma pure documentato in modo inequivocabile secondo il ministro degli esteri britannico Eden che scriveva al governo americano il primo febbraio 1943 nel gennaio 1943 Badoglio aveva preso contatto con i rappresentanti inglesi in Svizzera manifestando l'intenzione di assumere il potere in Italia con un governo militare e chiedendo che gli inglesi accettassero di ricevere il generale presenti suo uomo di fiducia per preparare il rovesciamento del fascismo con un'azione coordinata in Italia e fuori interessante che Badoglio riesca ad andare in Svizzera senza che nessuno del regime fascista facesse qualcosa gli inglesi lasciarono cadere l'apertura di Badoglio che pure ritenevano un possibile successo di Mussolini perché non volevano impegnarsi con nessuno prima di avere maggiori informazioni sulla situazione italiana interessante pure i tedeschi che lasciano andare Badoglio in qualche modo in Svizzera perché la Svizzera sappiamo che era una crocevia di spionaggio quindi è tuttavia molto interessante che nel gennaio 1940 e Badoglio fosse già arrivata un'azione così impegnativa anche se condotta con segretezza e prudenza la sua scelta contro il governo fascista non nasceva da un'esigenza morale troppo a lungo egli aveva collaborato con il regime perché sia possibile credere a una sua conversione radicale ma dall'aspro risentimento verso Mussolini ecco dal vivo desiderio di tornare sulla scena politica e dalla consapevolezza che il fascismo stava portando l'Italia al disastro oltre al fatto che nel frattempo era pure caduto il suo acerrimo nemico Cavallero quali che fossero i motivi della sua azione del resto importa rilevare che egli aveva iniziato ad esplorare la possibilità di rovesciare Mussolini con un certo anticipo sugli altri dirigenti politici e militari anche se in un momento in cui la guerra era già chiaramente persa per l'asse quando i vari complotti contro il governo fascista cominciarono ad intrecciarsi Badoglio era pronto ed infatti nella primavera del 1943 vide a varie riprese Ambrosio Bonomi e Acquarone oltre a personaggi di minor rilievo e fu ricevuto dal re questa attività non sfuggì alla polizia ecco poi qui c'è un'informativa che però non la leggiamo se no è troppo lunga però per capire come la polizia fascista qualcosa fa ma le segnalazioni degli informatori pur notevolmente dettagliate non ebbero seguito troppi complotti si intrecciavano nelle altre sfere romane troppo grave era la situazione interna ed internazionale perché la polizia fascista così dura ed efficiente con gli antifascisti sovversivi potesse realmente pensare a mettere le mani su un marescialo d'Italia che intrigava con il re troppe beche c'hanno questi poliziotti fascisti per riuscire a capire qual è credibile qual è efficace soprattutto c'era di mezzo il re quindi era particolarmente difficile nelle conversazioni che ebbe con i diversi esponenti Badoglio non nascose le sue aspirazioni alla successione di Mussolini pur dicendosi pronta ad accettare altre soluzioni sapeva di essere il più autorevole candidato perché il suo nome era largamente noto e generalmente stimato e perché poteva presentarsi contemporaneamente come garante della continuità dello Stato e come vittima del fascismo come vi avevo detto ecco poi che Bonomi riporta il fatto che era carico di stima generalizzata di vittorie sì era tronfio era carico di aver diciamo acchiappato rubacchiato meriti di altri e fatti propri e fruttò abilmente questa sua posizione evitando di legarsi ad uno solo dei gruppi che lavoravano per rovesciare i regime lasciando ad altri Ambrosio e Acquarone la preparazione del colpo di Stato come al solito fa affare agli altri e poi si prende lui i meriti l'ha fatto così nella prima guerra mondiale l'ha fatto così dopo è il solito badoglio con una malignità non priva di acume il maricello Caviglia gli aveva attribuito questa frase quindi Caviglia che è maligno ma acuto virgolette io sono come la bandiera che si presenta quando il reggimento è schierato allora prendo il comando e si marcia voi preparate tutto agendo come una specie di carboneria e pensate a me come capo la definizione di Caviglia è perfetta del resto il re non aveva molta scelta non poteva nominare un gerarca fascista agli occhi dell'opinione pubblica grandi occiano non erano meglio di Mussolini né diversi non erano meglio ma erano diversi e non voleva un uomo politico antifascista come Bonomi per non dare la sensazione di un'eccessiva sterzata a sinistra Bonomi sterzata a sinistra tra i militari il maresciallo Caviglia era di fatto pensionato da oltre 15 anni e quindi dimenticato mentre tra i generali più giovani nessuno raggiungeva un minimo di popolarità ed autorevolezza è un po' il discorso che faceva Bonomi ieri è tipico della mentalità di Badoglio che in una situazione grave e difficile egli potesse chiedere per sé la più alta carica dello Stato senza preoccuparsi di non possedere una preparazione specifica per fare il cavo del governo non ci si improvvisa ma tu lì si era improvvisato a fare tante altre cose quindi una più una meno in molti periodi della sua vita aveva avuto responsabilità politiche anche rilevanti ma sempre legata alla sua posizione di comandante militare e questo è importante un'esperienza un'esperienza nettamente insufficiente per affrontare i problemi economici sociali e diplomatici che lo attendevano nel 1943 bisogna però riconoscere che Badoglio diede subito prova di una disponibilità politica che non era facile prevedere scartando l'appoggio dei fascisti alla Grandi egli stabilì contatti soprattutto con Bonomi e propose al re una lista di ministri quasi interamente composta di antifascisti moderati Vittorio Emanuele che aveva l'iniziativa in questa fase preferì un governo di tecnici cioè di militari e di alti burocrati politicamente meno impegnativo e Badoglio dovette accettare il suo orientamento per un governo politico dimostra però che egli aveva compreso la necessità di un cambiamento non solo di facciata se si voleva dare al nuovo governo la necessaria stabilità e una certa base di consenso popolare sì però le intenzioni lasciano il tempo che trovano sono i fatti quelli che contano gli eventi successivi avrebbero dimostrato tutta la debolezza e l'isolamento del governo tecnico voluto dal sovrano e io aggiungo e accettato da Badoglio perché così dice non è che te l'ha ordinato il dottore nel senso che hai ottenuto anche i tuoi vantaggi sulla dinamica del colpo di stato del 25 luglio è precisa Rochard lo definiamo così perché l'operazione pur formalmente costituzionale comportava dopo tutto il rovesciamento di una dittatura ventennale e su questo io non concordo non ci soffermiamo perché i fatti sono ampiamente noti e in essi Badoglio non ebbe parte diretta infatti si è avvantaggiato in maniera spudorata per quanto ci risulta egli aveva accettato di presiedere il nuovo governo con ministri voluti dal re le predisposizioni per l'arresto di Mussolini il disarmo delle forze fasciste e la presa in mano dell'apparato statale furono opera di Ambrosio Acquarone e Senise riportato al posto di capo della polizia Vittorio Emanuele si riservò la scelta del momento e anche il proclama che fu diramata a firma di Badoglio con la famosa frase la guerra continua fu preparato e stampato senza il concorso del maresciallo pensate un po' quindi diciamo legge anche cose che non ha scritto lui l'effettiva assunzione della carica di capo del governo ebbe luogo il 27 luglio quando già la situazione si era chiarita e il successo del colpo di stato era pieno quindi non ha assunto nessun tipo di rischio non era nel carattere di Badoglio accettare di essere messo da parte in momenti così delicati ma egli non ebbe scelta perché il piccolo gruppo di congiurati vicino al re non intendeva lasciarsi sfuggire il controllo dell'operazione che aveva preparato dal 27 luglio però quando Badoglio assunse la carica di capo del governo nessuno poté più contestargli la posizione di maggior responsabile nella politica italiana che egli affrontò con il suo abituale tranquillo ottimismo e la sua rassicurante fiducia in sé così del resto aveva vissuto le ore di caporetto quindi in qualche modo diciamo che non ci possiamo stupire che l'esito è grosso modo lo stesso o forse anche peggio detto questo io chissà magari poi potremmo leggere altre pagine di questo interessante volume di cui in realtà poi abbiamo già letto anche qualcosa a proposito dell'8 settembre quindi diciamo tutto torna tutto viene recuperato in qualche modo all'interno di questo questa sorta di calderone di documenti di testimonianze di memorialistiche di impressioni che in qualche modo ci offrono sempre un miglior maggior chiamatevo come vi pare reso conto possibile di questo agglomerato di voci che in qualche modo vanno a creare questo coro un po' stonato che si caratterizza nelle ore del 24-25 luglio di 80 anni fa detto questo io come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao